Che scava sotto, almeno gli prendi anche le radici, poi prendi un vaso e glielo metti dentro. Ogni fiorellino, guarda, con le braccia, le gambe e la testa lì in mezzo, guarda qua sotto. Non lo avevo notato, però c'è l'altro, guarda qui, guarda qui. Prendiamone una che la facciamo filmare. No, no, no. Vabbè, ma li vedo la parte sotto. Rizzigna, segna, segna. Ragazzi, questo vuol essere di bene. Amizio, guarda lì. Vieni Eli, guarda qua che meraviglia, guarda. Guarda che sembra, che c'ha la testa, le braccia, che tiene aperte così, le gambe e il pisellino. Sono dei maschi. Ragazzi, sono dei maschi. Sono dei maschi. Esatto. Guarda che è uguale al colore della tua maglietta. Guarda che sei metodo. Guarda qui è uguale, guarda sia mettere. O che vuolioวazo dirett 1944. Guardate le fermo forti. Grazie.